noi vediamo già dal paradigma che questi verbi hanno soltanto la terza persona singolare se si presentano in questo modo è perché il verbo si può coniugare solo la terza persona singolare me, puduit, suscepti, negozi questi verbi pentirsi, vergognarsi, annoiarsi, rincrescersi sono come voi vedete dei verbi riflessivi penitet traduce già questa particella penitere vuol dire pentirsi non c'è bisogno di mettere, di aggiungere una particella pronominale detto questo ritorniamo alla nostra proposizione io trovo me puduit questo me non è la particella di vergognarsi perché puduit traduce già vergognarsi puduit traduce si vergognò il me che viene trovato nella costruzione con questi verbi assolutamente impersonali è il soggetto del verbo che compie l'azione e il soggetto di questi verbi non si presenta in latino in caso accusativo quindi quel me deve essere tradotto in questo caso io e puduit deve prendere come soggetto io anche se si trova la terza persona singolare perché al posto di me avrebbe potuto esserci un mi pare evidente un nos la traduzione è noi ci siamo ci siamo vergognati se c'è il nos evidentemente la traduzione è noi e il puduit non si traduce più mi sono vergognato ma ci siamo vergognati perché si deve adattare evidentemente al soggetto al nuovo soggetto grazie a tutti grazie a tutti